Ciao a tutti, io sono Flavio Mazzanti e non Fabio come tutti mi chiamano, quindi ormai in ogni slide lo scrivo perché sennò poi mi chiamano tutti Fabio e mi scrivono anche nella mail fabio-studiosamo.it e poi dicono non hai ricevuto la mail. Lavoro in Studio Samo della quale ho creato la parte di servizi ai clienti, nel senso quando io sono entrato in Studio Samo esisteva solo la parte formazione, io ho creato la parte di servizi ai clienti, quindi Laura per risponderti non sono un fondatore ma noi siamo due realtà, io sono il titolare della parte servizi ai clienti, poi siamo tutti insieme, è un unico gruppo però ho quella parte lì. Chi conosce Studio Samo? Qualcuno? Qualcuno ci conosce, perfetto. Bene, oggi la SEO è solitamente, la conosciamo come divisa nella parte tecnica, nella parte home page, nella parte off page, ci dimentichiamo un po' troppo spesso che la SEO parte dalla strategia, ok? Quindi dobbiamo avere delle strategie di marketing per fare delle attività susseguenti e per dire ai nostri SEO come si devono comportare, perché è vero esiste la velocità del sito, è vero esiste il tag title, è vero esiste il semaforo verde di Yoast, è vero esiste la link building ma se noi non portiamo da una strategia che ci dice dove dobbiamo andare, non ci serve a niente fare tutto questo, non siamo più alle keyword, questo è rimasto ai tempi in cui Don Claudissimo iniziava, quindi non si ricorda neanche più lui quando c'erano le keyword, sono finite, siamo in un altro mondo, cerchiamo di capire che mondo è e quindi io oggi vi parlerò di nulla di tecnico ma solo a livello strategico, quindi non c'è una riga di codice, non c'è una keyword, è tutto a livello strategico. Bene, nasco fino, nasco come un sospetto, oggi mi occupo di strategie digitali fino a quando il 2 agosto che per me è bolognese, è una data molto importante in quanto è la data della strage di Bologna, in realtà c'è stata un'altra strage che dico ma tutti i 2 agosto, adesso cerchiamo di starci un attimo attenti, succede questo, questo è iux, ok? Che perde milioni di visite, poi ci sono altri siti, questo è Cure Naturali che perde altre milioni di visite, questo è Misia, il blog, il principale blog di cucina in Italia che perde milioni di visite e tu dici Google ma che cosa hai fatto? Bene, e anch'io nel mio piccolo ho preso una botta del genere, per fortuna su un sito che non seguivo mai e questo è un bellissimo esempio per me perché questo è un sito che smetto di seguire nel 2016 e lui data una buona ottimizzazione che era stata fatta a questo sito continua a fare in un settore che era il primo settore che si credeva essere l'obiettivo di Google, ovvero il Medical, in realtà Google ha smentito, abbiamo visto come non è solo stato sul Medical, è stato il primo, tutti all'inizio dicevano quello, in realtà è un intervento broad come l'ha definito Google, in un sito che io non toccavo da due anni e che continuava a fare 1600 visite giorno, ok? Nel settore Medical quando lo gestivo io era arrivato a picchi da 4000, poi ovviamente in due anni era piano piano calato ma poi all'improvviso il 2 agosto ha preso quella botta lì, anche lui e quindi è successo un qualcosa di strano. Bene, ma a un certo punto esce Danny Sullivan, Danny Sullivan chi è? È oggi il portavoce di Google, è colui che fonda Search Engine Land, è una persona di alto spessore, un comunicatore vero e esce con un tweet e se noi stiamo attenti lui dice in questa frase qua, è broad, ok, però ok va bene la sicurezza, va bene la velocità, va bene tutto, ma a noi interessa di cosa bisogna la gente, ok? Abbiamo bisogno di grandi contenuti ed esce con la solita frase che noi sappiamo essere nel discorso del search intent e quindi dell'intento informazionale, questo salto veloce ne ha parlato Gennaro prima, ne ha ripresa Roberto dopo, la riprendiamo tutti, ma il guru ti dirà tutto molto bello, devi creare contenuti di qualità. Bene, grazie, sei molto gentile, poi ti dice anche che fai nuoto a un sport completo, ti dice che Venezia è bella, ti dice magari leggi un libro, il guru continua a raccontarti queste cose quindi the content is king, lo sentiamo all'infinite e nessuno ti dice mai cosa devi fare, ok, fai un contenuto di qualità, grazie, è molto gentile, andiamo avanti. Benissimo, ma attenzione perché ci perdiamo un punto che è quello che mette Sullivan, guardati caro amico, le linee guida dei nostri quality rater, sono solo 200 pagine, ma io lì ho la risposta al mio update, l'ho messa lì dentro, chi qua dentro si occupa di SEO? Perfetto, chi ha mai letto interamente tutte 200 le pagine? Nessuno, vi do una bruttissima notizia, dovete andare a casa a stamparle e leggervele tutte, se volete oggi continuare a fare SEO perché effettivamente qua dentro c'è la risposta, se la analizziamo bene, è una risposta molto complessa anche da andare a leggere perché questo vi ho messo il link così lo trovate facilmente ma basta che cercate linee guida quality rater e le trovate. Bene, qual è il ruolo della SEO oggi? Di cosa si occupa la SEO oggi e di cosa si occuperà nel futuro? La SEO è la rappresentazione di un risultato all'interno di uno spazio pubblicitario, c'è Google, la SERP è uno spazio pubblicitario, non è nulla di differente, ieri mettevate i cartelloni, oggi volete essere in SERP perché la gente vi deve vedere, vi deve cliccare, non è null'altro che uno spazio pubblicitario e quindi anche noi SEO, non vi piacerà sentirvelo dire, ma anche noi SEO facciamo pubblicità, questo è il nostro modo di lavorare e questo deve essere oggi il nostro modo di lavorare, quindi bellissimo tutto il discorso tecnico ed è, mi raccomando, fondamentale perché se poi un SEO mi viene a dire io so cos'è la pubblicità e non so cos'è un redirect, non sei un SEO, ok? Non fai questo lavoro ma dovete iniziare ad entrare in un discorso di marketing, noi facciamo marketing, la SEO fa parte del marketing, non fa parte dello sviluppo, sta dall'altra parte, ok? Bene, ho ripetuto la slide così perché mi sono sbagliato, bene, chi sono i quality raters? I quality raters non sono persone professioniste, ok? Non sono gente pagata per fare i quality raters, gli danno due soldi, ok? E li cambiano molto spesso, devono rappresentare l'utente medio, quindi non sono professionisti del web, non conoscono, Google non conoscono la SEO mediamente, quindi paradossalmente se io mi candido, Google probabilmente non mi prenderebbe mai a fare il quality rater, ok? E devono valutare i risultati di Google, sono chiamati per quello, la maggior parte dei test oggi, cosa che Google dice, viene fatta su mobile, altra cosa per vedere come il nostro sito risponde su mobile, perché continuiamo ad analizzare il sito su desktop quando tutti gli utenti poi se lo guardano dal cellulare. Bene, quindi chi è il quality rater? Noi, c'è chiunque qua dentro, tranne chi si occupa di SEO, potrebbe essere un quality rater, ma noi siamo tutti molto interessati al settore, quindi tutti quelli che sono là fuori, quando usciamo da qua, potrebbero essere quality rater. Bene, e come valutano i quality rater? Con una semplice scala, gli vengono date delle domande su dei siti e gli viene detto a persone normali, date un voto, semplicemente da alto a basso, quello che vi pare di più a voi, ok? E hanno delle linee guide che io ho tradotto, anche se qualcuno non è contento che noi traduciamo libri, quindi non le ho lasciate in inglese, le ho messe in italiano, la prima cosa che dice, dice, il primo obiettivo è la valutazione del page quality, ok? E quindi è determinare se quella pagina raggiunge o meno il suo scopo rispetto a quello che ti ho dato. Fai una ricerca e guarda se la pagina che vedi, anche la prima, raggiunge il suo scopo e quindi dobbiamo scoprire lo scopo di quella pagina e di tutto il sito web. Bene, ogni pagina di internet viene creata per uno o più scopi, queste sono, cioè ho solo tradotto, quindi queste sono parole di Google, non mie. La maggior parte delle pagine sono create per essere utili agli utenti, alcune pagine, attenzione, sono create solo per fare soldi con poco e nessun sforzo per aiutare gli utenti, alcune pagine vengono persino create per danneggiare gli utenti, quindi il primo passo è capire l'obiettivo di queste pagine. Bene, e quindi per Google ovviamente devono essere create per aiutare gli utenti, non per fare soldi noi, perché siamo troppo abituati ad aprire un blog e vedere quanto traffico faccio e quante affiliazioni faccio e di questo Google finalmente mi viene da dire, perché io sono sempre molto favorevole agli aggiornamenti di Google, perché sono sempre a favore del marketing, ok? Quindi da panda, penguin, eccetera, sono sempre a favore del marketing, quindi al posto di insultare Google come fanno tutti se io gli do ragione, perché pensiamo solo a guadagnare e spesso guadagniamo su le scommesse, su le problematiche di salute e questo non è corretto, senza entrare in discorsi etici e quant'altro, però Google vuole che a un problema medico risponda a un medico con 10 anni di medicina sulle spalle, più tutta l'esperienza in campo. Bene, poi ci sono pagine che richiedono della qualità e pagine che richiedono meno qualità e sono le classiche pagine your money, your life, ok? La borsa o la vita, quelle pagine che potrebbero, come dice Google, potenzialmente influenzare la felicità futura, la salute o la stabilità finanziaria degli utenti. Ok, attenzione a quello che dice Google, lo scrive bene quali sono le pagine che possono influenzare. Ho mal di testa, come posso curare il mal di testa? Quella pagina, se voi gli dite bevi un bicchier d'acqua potrebbe influenzare negativamente il vostro utente, ok? Bene, poi ci sono le pagine transazionali, quelle dello shopping e quindi sono le pagine che consentono agli utenti di trasferire denaro, di pagare le fatture, eccetera. Le pagine di informazioni finanziarie, i mutui, le discussioni dei tassi dei mutui e quant'altro a livello finanziario, più le notizie ufficiali, siamo in piena epoca, fake news e quindi Google ci butta dentro anche questo, deve trovare il modo anche lui di combattere le fake news, ok? Bene, e quindi come faccio a fare una valutazione del mio sito web corretta? Come io quality rater, ok? E poi io SEO, io marketer, io webmaster, mi metto nell'ottica di un quality rater e cerco di vedere questo. Bene, le pagine hanno più senso quando sono viste come parte di un sito web, quindi non staccate le pagine, non contenuti che non c'entrano niente, faccio l'ending page, l'abitudine, ho il sito brutto, non mobile, faccio l'ending page strabella, oppure ho il sito tutto rosso, faccio l'ending page gialla perché mi va così, ok? Stiamo in una logica, anche perché ci dovrebbe essere dietro una logica. L'home page, l'home page di un sito web solitamente contiene o non contiene link a importanti informazioni sul sito, quindi l'home page Google si aspetta delle cose, quindi non andiamo a cercare, ah non ho scritto il testo, ho messo troppi link, non c'è l'H1, il title, è scritto male, la keyword research, questo e quell'altro, il mio competitor spende più il link. Semplicemente non gli metto i link nel footer ai contatti e potrebbe essere una valutazione negativa da parte di un quality rater a farti un danno sul tuo sito, solo perché non stai facendo, non sei credibile, la credibilità, quindi il quality rater dice non riesco a capire di chi è questo sito, perfetto lato SEO, H1, title, link interni, link esterni, tutto, però non sei credibile e quindi non ha senso che tu stia lì, perché puoi fregare il mio utente. Cosa? Ci sono i siti che non hanno la partita IVA e vendono, non sono in HTTPS e vendono, quindi fate tutta la SEO che volete, ma io quality rater passo e dico no, questo sito non va bene, poi ne passano altri 100 di quality rater, dicono tutti no e il sito va giù e poi vi fate la domanda al SEO, è colpa del SEO, analizziamo i dati, cambiamo, facciamo cro, tutte queste belle cose e poi non avete messo la partita IVA, ok? Bene. La reputazione per la valutazione della qualità della pagina è necessario anche cercare informazioni esterne e indipendenti. I quality rater sono chiamati ad andare a cercare informazioni sulla tua azienda. Come si traduce questo in linguaggio? Molto molto semplice, con pochissime lettere, 5, brand. E quindi il SEO deve lavorare sul brand, perché il quality rater andrà a cercare informazioni sull'azienda e se le informazioni fuori dal sito di quell'azienda sono negative influirà nella nostra SEO organica. Title, H1, URL, tutte queste cose qua influenzate da cosa? Dal brand, ok? Andiamo avanti. Guardate qua di cosa parla Google, della pagina contatti, la SEO Google te la fa valutare dai quality rater sulla pagina contatti. Attenzione, io ho estrapolato quattro cose per fare il talk, sono 200 pagine quelle di cui parla Google, c'è tanto scritto, io ho estrapolato due cose per poter fare il talk. Ogni pagina appartiene a un sito web e dovrebbe essere chiaro chi è responsabile del sito web, chi ha creato il contenuto della pagina che state valutando e per i siti di shopping ti chiederemo controlli aggiuntivi. Dopo vi faccio vedere un esempio sui controlli aggiuntivi che vado a chiedere, come noi abbiamo salvato il fondo schiena ad un e-commerce prima di questo aggiornamento solo ragionando più di un anno fa sulle linee guida dei quality rater. Bene, l'autore della pagina o del sito web non ha sufficiente competenza per l'argomento della pagina o non è affidabile, se non sei un medico e scrivi di medicina non sei affidabile, puoi essere il copywriter più bravo al mondo ma non hai fatto dieci anni di medicina, mi dispiace non sei adeguato a scrivere di quel contenuto. La creazione di MC, attenzione, MC sono quelle pagine main content che chiama Google all'interno delle linee guida che possono spostare problematiche, che all'utente possono veramente influenzare l'utente, quindi la pagina dei resi dell'e-commerce non influenza l'utente, la pagina dell'outlet influenza l'utente, ok? Quindi la pagina, le creazioni di pagine principali di alta qualità richiede una quantità significativa di almeno uno dei seguenti fattori, tempo, impegno, competenza, talento e abilità, ok? Cosa guardano? Secondo te quality letter quanto ci ha messo a fare quel contenuto? Dieci minuti, sega, via, non ci serve, via. Verificare l'originalità e ti spiega Google perché sono persone normali, quindi non sanno le persone normali che su Google basta metterle virgolette davanti a una query per trovare esattamente quel risultato e quindi Google glielo spiega, vai a vedere se l'ha copiato, ok? Poi direi usa un tool che fai prima, però vai a vedere se quel contenuto l'ha copiato. Le pagine create con l'intento di attirare motori di ricerca e utenti piuttosto che fornire livelli elevati di qualità per aiutare gli utenti dovranno essere classificati come lowest, le peggiori, ok? Quindi se pensate a fare soldi siete morti nella logica di Google. Bene, facciamo un piccolo gioco, così, è l'ultimo speech. Dovete dare, voi siete i quality rater e quindi adesso date un voto, da basso, medio, alto. Bene, si vede lassù? Spero di sì, più o meno, però. Eh esatto, esatto, non si capisce se è bello o brutto, da qua sembra carina. Chi è che vota basso? C'è la curva nord, ok, qua vota basso. Non si può non votare, votate dai, è un gioco. Chi è che vota basso? Basso, medio, medio, alto, non vedi le categorie? Allora, nelle categorie c'è scritto, vedo piccolo anch'io, c'è il blog, c'è Tod's, ah ci sono le marche, poi c'è TV, perché è un blog questo, Real Wedding, Mon, Mon, c'è un blog. È alto, questa è valutata alta, nessuno qua dentro ha valutato questa pagina alta. Perché è alta? Perché Google ci dice soddisfa gli utenti perché ti dà le informazioni sul prezzo, hai le informazioni sullo stile del vestito ed è molto soddisfacente perché è autorevole, è scritto da un sito che parla di questo argomento, che è riconosciuto nel mondo, quindi è un sito che sa di ciò che sta parlando e quindi questa pagina è di alto livello. Andiamo avanti. Com'è questa? Questa qua è la pagina di un ristorante. Questa è la pagina di un ristorante. Com'è? Chi è che vota basso? Su le mani. Chi è che vota medio? Chi è che vota alto? Perché avete scoperto il tranello. E questa è alta anche questa. Perché è alta? Perché non gliene frega niente a nessuno. E io rispetto le linee guide di Wordpress generale, ma io qua una parolaccia ci sarebbe benissimo. Non gli interessa niente a nessuno della grafica quando parliamo di soddisfazione dell'utente. L'utente è sulla pagina di un ristorante. Cosa vuol sapere? Se è aperto? Dov'è? Qual è il menu? E se sono intollerante al latte? Voglio sapere se vengo da te e finisco all'ospedale o no. Ok? Non gliene frega niente che il sito sia bello. A Google non gli interessa. Togliamoci dalla testa la bellezza grafica non supportata da una strategia adeguata. Perché poi facciamo i siti più belli del mondo che vi vedete solo voi. Ve li guardate, ve li accarezzate. Allora, compratevi un quadro, ve lo mettete in camera ed è uguale. Anzi, forse spendete anche meno. Sicuramente con meno frustrazione. Ti dice? È la pagina About Us del ristorante e questa pagina ha tutte informazioni di quando il ristorante è aperto e di cosa i visitatori si possono aspettare. Perché se la leggete vi racconta la storia e quindi io so cosa aspettarmi da quel ristorante. Quindi questa pagina è buona. Andiamo avanti. Questa com'è? Ricerca dell'Apple Pie. Chi è che vota a basso? Gennaro. Non fate il giochino dei grandi numeri. Erano usciti due altri. Adesso questo sarà basso. Gennaro vota a basso. Chi vota a medio? Tutti i medi, stati in mezzo. C'è gli italiani, siamo un po' svizzeri qua. Ci stiamo avvicinando qua alla Sabaudi, andiamo verso la Svizzera, siamo tutti in mezzo. Benissimo. Chi vota alto? Ok. Gennaro, vorrei dirti che André ha appena votato alto e in realtà è basso. Perché è bassa questa qua? Low quality and unsatisfying amount of MC. Non mi dà informazioni aggiuntive, nel senso qua ti dice, lui ti chiede di fare la crust, che non so cosa voglia dire, se qualcuno sa, wrap exist top crust. Non so cosa sia la crust, forse una crema, non lo so come si traduca. E non, sì, perfetto. E non mi spieghi, non mi spieghi come si fa. Quindi io non so fare la ricetta, perché mi dà un ingrediente da fare che io non so fare, non me l'hai spiegato, non c'è un link interno che mi porta quell'ingrediente. E quindi io ho questa ricetta qua, se non so fare la crust, che non so cosa sia, però se non so fare la ricetta non posso farla. E quindi tu non mi stai aiutando. E quindi questa pagina è di basso livello, perché non soddisfa le aspettative dell'utente. Questa com'è? Basso. Basso. Medio? Medio 1, lui la Svizzera perfetta. Alto? Due alti, se non avete votato l'80%, facendo delle figure del cavolo, non votiamo. La query non c'è, ma i quality rater non ragionano spesso su delle query, spesso gli danni i siti. Cioè questa query è il titolo, how to pick quality stock for investment. Quella è la query, il titolo della pagina. Quindi discorso finanziario. Questo è un po' più difficile. Questa è bassa. Perché è bassa? Questa è più difficile? Perché non c'è in un topic your money, your life, l'autore che lo scrive non si occupa di finanza nella vita. Quindi ha insegato questa pagina di Vicky Howe, sì non ha insegato un sito del cavolo, è Vicky Howe, non c'è importante perché l'autore non è assolutamente autorevole nei confronti di questa specifica materia. E quindi tu stai rischiando di fare dei danni agli utenti, sono pagine your money, your life, e quindi non sei assolutamente autorevole. Bene, e la pagina di Amazon del 404? Com'è? Alto? Contrario? Alto? Nessuno? Una? Due? Medio? Gli svizzeri? Basso? Qua non vota più nessuno che ha paura qua tutti di sbagliare. Questa è media. Perché è media? Perché ti dice, c'è nulla di sbagliato ma non c'è nulla di speciale. Però sei Amazon, sei un brand, torna indietro. Una pagina corretta 404 è questa. Questa è bella per Google perché ti dice ti sei sbagliato, c'è una faccia simpatica, ti aiuta ad andare in un altro posto, ti dà tutte le problematiche che tu puoi avere riscontrato, ma il punto che vi voglio far vedere è che nelle linee guida dei quality rater, per valutare la potenza del vostro sito web, c'è la valutazione della 404. Onestamente chi ha mai guardato la 404 del sito su cui lavora? Uno? Due? Qualcuno c'è? La 404 è una pagina che vedevo valutata. Io ho trovato un genio, un genio, che è stato uno che ha messo su questa pagina un percentuale di sconto su un e-commerce del 4,04%, dicendo scusaci, visto che sei capitato qua, probabilmente per un errore nostro, ti diamo un codice, applica questo conto, avrai uno sconto del 4,04% sul prodotto che acquisterai, un genio. Bene, è tutto? Assolutamente no. Bene, la prima regola è competenza, autorevolezza, credibilità. In questo e-commerce, che è quello del quale dicevo, gli abbiamo salvato il fondo schiena, nella pagina chi siamo, nella sicurezza, gli abbiamo scritto, non lo leggo, da qua ve lo leggo, la nostra azienda è nata oltre 35 anni fa, il fondatore, signor tal dei tali, nome, cognome, oggi amministratore del gruppo garantisce la massima serietà e trasparenza in merito alle transazioni, e questo lo scrivono tutti. Noi però abbiamo aggiunto, ecco le nostre coordinate con le quali potrete presentarvi verso il vostro istituto bancario in merito alla nostra società e informarvi se siamo solvibili o no. Quindi vai in banca, devi fare 10.000 euro di acquisto sul mio sito, vai in banca e guarda chi sono, e ti metto lì i miei dati, nome, cognome, eccetera, HTTPS, recensioni, chat, numero di telefono, qualsiasi cosa per fare in modo di farti vedere che io sono credibile come azienda, non ti sto prendendo in giro. La regola 2 l'ho saltata perché è quello che abbiamo già visto. Le pagine di bassa qualità, Google le combatte, dice Google le combatte, c'è scritto nelle linee di guida, c'è l'arma affilata, io non le voglio, ok, quindi dovete mettere qualità. Quanti di voi vedono il classic e-commerce, 8.000 schede prodotto, come li hai presi i contenuti? Beh, li ho copiati come tutti, ho scaricato il CSV, li ho caricati su. Per non di più, quelli che caricano sono le immagini, ma dai, ma tanto chi le legge le schede prodotto? Cosa vuoi che io debba scrivere? Ok, bene, poi vieni flegato ed è colpa sempre del SEO, che sbaglia farà link building. Regola 4, i contenuti main, perfetto. Regola 5, il famosissimo, oggi siamo in piena attività clickbait, questo si sente sempre a parlare, Google si aspetta che l'utente sia soddisfatto quando clicca su risultato di ricerca e quindi usa come metrica quella che non possiamo calcolare che è il pogo sticking, ovvero l'utente che da risultato di ricerca entra su un sito e in tempo molto breve torna nella stessa pagina dei risultati di ricerca e va su altri siti. Dimostrazione, il primo sito non mi interessava, non era ciò che mi aspettavo. Ok? E questo è un esempio di come puoi salvare un sito. Divano due posti e dimensioni, è informazionale o transazionale? Chi dice informazionale? Una. Chi dice transazionale? Un po' di più, imparate a leggere la SERP, c'è Google Shopping, Google in un contenuto informazionale, shopping, non ce lo mette. Quindi se c'è Google Shopping è il primo sentore che vi fa dire, è transazionale. E infatti io sono quello rosso, sono là sotto, non sono primo, non vi sto facendo vedere, sono figo a fare il SERP, sono là sotto, sono settimo. Però sono l'unico contenuto di questa SERP con i divani in vendita nei quali ti dico la dimensione del divano. Perché? Perché tutti gli altri sono informazionali. Come dovrebbe essere la dimensione di un divano? La risposta è molto semplice. Quanto è grande lo spazio che c'ho in casa? Perché se tu mi dici che deve essere due metri e io due metri non ce li ho, non butto giù il muro. Compro un divano più piccolo. Quindi di informarmi su quanto deve essere grande la guida alle dimensioni del divano? Eh, prendi il metro e misuratelo la risposta e vai, giusto, vai anche nel feature snippet, risposta semplice, diretta, sei anche già lì, primo in SERP. Ok? Siamo gli unici transazionali, vendiamo da questa SERP. Perché tutti gli altri non vendono. Bene, e questo è quello che dicevo. Quindi siamo uno spazio pubblicitario, vado veloce, ed un punto fondamentale è il CTR che Wikipedia lo definisce, un tasso che misura l'efficacia di una campagna pubblicitaria online, definizione di Wikipedia. E quindi quando faccio realmente SEO, quando valuto questo. Qua oggi sto facendo veramente SEO. Se valuto, questo. Se valuto, questo. L'entrata in diretta, non abbiamo tempo, potremmo parlare all'infinito di cosa sono le conversioni indirette degli assist che vengono fatti dalla SEO alle altre materie. Ve ne faccio vedere uno. Non è questo il mio obiettivo, toglietevelo dalla testa, non me ne frega niente della posizione nella quale sono messo. Certo, più in alto sto, più traffico faccio. Ovviamente non sto dicendo questo, ma non fate della vostra attività SEO strategica questo l'obiettivo. Bene, il CTR, ci dobbiamo concentrare sul CTR, vado veloce che ho poco tempo, e quindi iniziamo a parlare di brand. E Google oggi ti dice che il 60% delle ricerche sfociano in un click, quindi neanche tutte, perché? Perché i feature snippet ti rispondono. Quindi il 60% delle ricerche sfocia in un click. Di quelle, il 40% genera zero click, perché la gente non trova risultato direttamente in SERPO. Non si trova già in SERPO ciò di cui aveva bisogno. E quindi qual è il potere del brand? Che il brand ha tre paroline chiave evidenziate, abitudine, fiducia, familiarità. Ok? Due minuti, vado velocissimo. E quindi la SEO come può aiutarci a costruire il brand? Andando in una logica di funnel. Ma dove lavora? Nella relazione e in quelle che sono le sessioni di ricerca. Perché è un percorso che noi marketer, perché noi che facciamo SEO siamo marketer e se credete di essere dei tecnici avete sbagliato nel 2018 lavoro? Ok? Quindi andate a fare i plug-in che sono utilissimi. Ma fate un altro lavoro? Ok? Noi siamo marketer, noi dobbiamo orientare la sessione di ricerca. Dobbiamo fare questo oggi. Bene. E quindi cosa ho fatto? Una chiave di partenza, comandare il soggiorno. Dove dovevo arrivare? Io sono partito da qua per arrivare alle offerte che avevo. Non sono partito dalle offerte buttando link come un matto. Sono partito dall'alto. In mezzo c'era tutto il resto. E quindi cosa ho fatto? Ho costruito una relazione di fiducia tra me e il mio utente. Come? Facendomi trovare. Mi faccio trovare, ti do una risposta, sto costruendo una fiducia. Un minuto. Perfetto. E quindi dove agisce la SEO nel funnel? Dappertutto. Dappertutto. All'utente che non ci conosce fino ai nostri più grandi amori. Tutti hanno bisogno della SEO. Qualsiasi utente oggi ha bisogno della SEO. E ci sono i micro momenti che Google definisce. E quindi studiamo ciò che Google ci dice. Perché non è che va studiato. Semplicemente ci dà le regole del gioco. Però nessuno le legge. E quindi? Want to know. E quindi? Consigli per arredare il soggiorno. 2.400 visite a questa pagina organica, filtrate organiche. Want to buy. Giorno, pareti, soggiorno. 61.000. visualizzazioni di pagine. Ah, queste sono visualizzazioni di pagine. Qua abbiamo su 60.000 visualizzazioni, qua abbiamo 9.6.000 sulle mie due pagine di vendita. Come le ho collegate? Così andando a fare un filtro in analytics e vedendo cosa succede. E quindi lato organico mi sono accorto che su quello specifico segmento avevo su 4.000 aggiunte al carrello, è l'ultima slide, ho finito, su 4.000 aggiunte al carrello avevo 3.200 abbandoni di carrello. Ed è qua che devo lavorare. Ed è qua che il SEO fa l'amore, perdonatemi il termine, con l'advertising e con le altre figure, con gli analisti dei dati. Perché? Perché io vado dai miei bravi amici che sanno fare remarketing e gli dico, sai che mi sono accorto che ho 3.000 carrelli abbandonati sulle pareti di soggiorno dalla SEO? Cosa devo fare? il mio bravo amico che sa fare remarketing mi dice, guarda facciamo un bel evento che diciamo a tutti quelli che hanno abbandonato il carrello ma che sono passati sia dal blog sia delle pareti attrezzate, quindi cosa vuol dire? Ci sono informati, hanno guardato i prodotti, erano interessati e quindi il nostro utente è lui che deve comprare, è già pronto, è già sveglio, ha la carta di credito in mano, io attivo un segmento di remarketing. Quale remarketing? Il remarketing in rete di ricerca, perché io sono pazzo se ho fatto tutto sto percorso e poi vado a pagare Google Ads, Google è contento ma io sono pazzo faccio tutto sto bordello e poi attivo l'annuncio su pareti attrezzate economiche? No, faccio su questa chiave, solo a quegli utenti di prima mi metto primo per la parola chiave, perché so che non hanno ancora comprato e quindi stanno per comprare e quindi torneranno a fare ricerche, Elena ha detto prima, ci siamo accorti che da Facebook non convertiva, Facebook non è uno strumento di conversione, Facebook è un aiuto alla SERP a convertire, quindi so che quell'utente tornerà a fare delle ricerche e visto che ha già fatto tutto il mio percorso mi vedrà in alto, si ricorderà di me, perché ho costruito un brand con lui. Con questo vi ringrazio, questo è, faccio una marchetta, è il libro che abbiamo tradotto in italiano, è la Bibbia del web marketing e basta, quindi se vi può interessare 1200 pagine in italiano sulla SEO e questo sono io, grazie.